Ospedali abbandonati a Roma, titolo di questo posto di 1 marzo 2016 a firma della Iena Maesano. La Iena Maesano decide di legarsi in uno degli ospedali probabilmente più famosi per quanto riguarda la situazione di abbandono in cui avrebbe riversato tempo fa e di cui spero non sia più in questa situazione qua. Sto parlando dell'ospedale Forlanini ubicato nel cuore di Monte Verde più o meno. E proprio la Iena quindi decide di legarsi in loco in questa struttura ospedaliera, in questa struttura sanitaria, un ospedale di ben 200 mila metri quadri, il quale avrebbe diverse aree che sarebbero abbandonate e sarebbero addirittura abitate da clochard, da balboni e in alcune aree, per l'appunto, si sarebbero verificati in tempi passati episodi in cui le persone o meglio il prostituto portava i loro clienti in alcuni spazi proprio per consumare i rapporti sessuali. Oltre ai balboni, oltre al risquillo che portavano i clienti in questi, diciamo così, spazi abbandonati per avere dei rapporti sessuali, c'era anche da aggiungere il fatto che purtroppo ci sono stati anche casi in tempi passati, ripeto, di persone che hanno per così via rubato il rame in alcuni posti, in alcuni punti proprio di questo ospedale romano del Fornalini di Roma. Insomma, la situazione non sarebbe delle più belle, delle più edificanti secondo la mia opinione e non è una cosa proprio bellissima quella che vi ho trasmesso a voce. Lascio a voi il compito di commentare quello che avete ascoltato dalle mie parole, dalla mia villa a bocca sia da voi di iscrivervi a questo canale, in questo canale dovrete tutti i video di notizie attuali, recenti passati ma anche di programmi televisivi, di servizi televisivi che vengono da me, recensiti che vengono da me, appunto disaminati in modo completo. Iscrivetevi e commentate www.jene.medes.it per vedere tutti i servizi di Jene. Grazie e un saluto a voi tutti.